Ciao a tutti, sono Delly e adesso farò la reaction di Jay Park featuring Jessie e prodotto da Gay, si chiama Run It e se non sbaglio c'è anche la collaborazione di Wan J che non sono sicura che sia quella di Show Me Dei Mani, spero sia lui e niente, adesso farò la reaction Sì, partiamo già così, Jay Park Ciao Che cazzo, mmm, è buono Ah, ok Peccato che non ricasi poco però il video Ah, siamo alle sottise Come che bello che abbia preso il ragazzino cioè, non il tipico bel ragazzino, magro È stra carino comunque, che cute Che cazzo Oh ho 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 No, fatemi vedere Jessie, mi prego oh no si sente ma non saluto in il video Sì, non credo sia quello che sia meglio Sì È lui, è lui, è sicuro Sì, è il giro, 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 è il giro Le mani Oh, dei bar Sono sessi Spero che mi ha detto tipo, che è un giro Oh, giro Sì, io ti vienziore Una bella Wow, questa è tipo la tipica canzone che se la ascolti tipo mentre corri ti carica tantissimo O in macchina, che inizia a correre, quindi non va bene Comunque mi è piaciuto tantissimo Cioè la canzone è una figata assurda Me la scarico sicuramente perché, cioè, ti carica tantissimo Quindi, adoro E niente, quindi in casa scrivete nei commenti cosa pensate voi del video E ci vediamo alla prossima reaction Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti